Col Colocchio straordinato Con lo Stato Tanto mi capita di venire a qualche gara, oggi non potevo mancare, sono studente universitario, oltretutto ho parecchie amicizie qua di oggi, da giovani, da giovanissimo, 26 a fine anno, mi capitava di venire qua anche a parte, non potevo mancare, conoscendo molto più attenuare se la giovane, da giovanissimo, ci vede più, non potevo mancare, conoscendo molto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.